Ciao Franco, grazie di aver accettato quest'altro invito. Oggi siamo qui non tanto a parlare di scuola, come ci è già successo in passato, neanche per parlare di filosofia, ma affronteremo una questione, diciamo, storica, sociale, economica, politica, che tu hai avuto modo di approfondire, no? Prima di tutto ciao a tutti, eh! Ecco, la questione a cui mi stavo riferendo è quella relativa ai problemi del meridione, del sud Italia, che è una questione molto complessa, che getta le radici nel tempo, diciamo, e che tu hai avuto modo di approfondire svolgendo una ricerca personale sul tema, giusto? Sì, proprio così! Allora, prima di addentrarci e di analizzare la tematica, volevo chiederti, proprio per curiosità personale, cos'è che ti ha spinto ad affrontare questa ricerca? Come dire, mi ha spinto così la mia vita, che ormai sta vicino alla morte, alla nascita, che si sviluppata in Italia e c'è un sviluppo, c'è la storia di sviluppo, la storia non è permanenza, la storia è cambiamento. E in questo cambiamento io ho visto, come dire, che i mali del sud Italia, mali morali in primo luogo e poi politici in secondo luogo, economici in terzo luogo, metto primo, secondo, terzo luogo perché io non sono un marxista, non sono un materialista, praticamente stanno peggiorando gravemente e velocemente. E questo si espandono, questi mali, all'Italia nel suo complesso, a questo Stato nazionale che la nostra ora più bella, our finest hour, il risorgimento, prodotto da sette nani, sette piccoli nani, Ducato di Parma e Piacenza, Ducato di Modena e Reggio, Ducato di Toscana, Ponteficio, Regno Lombardo-Veneto, Regno di Sardegna, Regno di Sicilia. Da sette nani ha prodotto il Regno d'Italia che ha avuto tutto uno sviluppo meraviglioso ma ha anche appunto varie problematiche. Questa mi sembra, tra le varie problematiche morali e politiche, in terzo luogo anche economiche, perché no, la più grave di tutte. Senti, so che può sembrarti una domanda magari un po' banale, però per farci capire a chi ci sta ascoltando, se tu dovessi definire che cos'è la questione meridionale, come lo faresti? E come lo farei? Che come dire, appunto, giusta domanda che se non è facile rispondere, la questione, la parola questione è un termine ottocentesco che non si usa più oggi, significa un po' come l'inglese di un tempo, to be or not be, that is a question, cioè problema, questione qui significa problema, oggi noi useremo, e piacerebbe meglio tradurre nell'italiano di oggi, visto che parliamo oggi, il problema meridionale, questione, se mi cercava, questions, answers, if this is a slot, for questions and answers, significa problema. C'è una questione molto questionabile, non si dice, ci sono una questione molto problematica, vero o no? questo problema, come dire, è appunto il problema dell'unità nazionale, che significa unità nazionale, il popolo italiano che esisteva già da 900 anni, un popolo, come diceva Dante, dove la terra, ma il popolo dove il sì, perché la terra non parla, parlano le persone, gli esseri comuni, dove il sì suona, non si dice da, come in Germania, la parola sì, non si dice oui, non si dice come in Francia, non si dice yes, come in Inghilterra, ho detto da, sbagliato, da si dice in Russia, non si dice ja, come in Germania, ma si dice sì, è il popolo italiano che da 900 anni esisteva, ma era diviso in tanti statarelli, al tempo del risorgimento era diviso in sette statarelli, per questo è bene chiamarli, per ricordarsi, sette nani, anziché gongolo, pisolo, euro, eh? Un ducato di Tosmiliani, un ducato di Toscano, sette nani, e c'era il problema, ma tutti li mettiamo insieme nel Regno d'Italia o solo come nel Regno d'Italia al tempo di Napoleone il Grande? Sapete che il re d'Italia era Napoleone il Grande, Napoleone Bonaparte, imperatore i francesi, ma anche il re d'Italia, il suo vicerei era il suo figliastro, il figlio della Buarnè, Eugenio Buarnè era il re d'Italia, era il vicerei che stava effettivamente poi in Italia, perché l'imperatore doveva andare in Russia, in pratica, però era un Regno d'Italia che escludeva il Meridione. Dovevamo tornare, tipo Massimo D'Azeglio, grande, il cavaliere d'Italia, un grande uomo del risorgimento, quello della famosa frase abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Diceva, meglio che Garibaldi, i suoi, non facciano sta cosa di annetterci il sud, perché andare a annetterci il sud al Regno d'Italia è come voler andare a letto con un lebroso, e qua già si mostra la problematica, no? Come dire, la problematica è che, sì, metterlo o non metterlo questo Regno d'Italia, ora io, siccome sono nato nel 59, adesso ho 65 anni, ho vissuto questa cosa dalla questione meridionale, cioè del problema del Meridione in Italia, e come cercare di migliorare queste cose negative per il Meridione, soprattutto per i meridionali, perché il Meridione è un'entità di ideologie, certo, ma poi ci sono gli esseri umani, donne, uomini, bambini, che sono la cosa più importante, secondo me. Migliorare per loro e per noi che siamo loro fratelli, concittadini di questo stato nazionale che è l'Italia. Migliorare, migliorare come? Io ho sentito, ho vissuto nella mia vita questo problema meridionale, usiamo la parola non più questione, se no siamo sempre ottocenteschi, capisci? E diciamo un popolo disperso che nome non ha, e parliamo come Manzoni nella Delchi, però non siamo più Manzoni nella Delchi, dunque usiamo problematica, grossi problemi del Meridione, non questione, se no siamo ottocenteschi, non siamo ottocenteschi, sono nel 21esimo secolo. Io l'ho vissuta così, sentivo che si vedevano la cosa della mafia già allora, si sentiva al telegiornale e praticamente mio padre che era fascista mi raccontava come questa cosa della mafia il fascismo l'avesse sanata. Ora proprio sanata, visto che è ricomparsa, no, però poi io da grande o da vecchio per me dire, ho studiato questa cosa del fascismo e il fascismo effettivamente ha dato un colpo mortale, no, un colpo mortale no se non sarebbe rivissuto, un colpo molto grave alla mafia. Ci sono tanti documenti, io ti volevo chiedere tu poi puoi mettere un file su dei documenti in fondo al video? Certo. E così tutti coloro che volessero confermarsi con documenti, documenti di prima mano, non chiacchiere, non chiacchiere, documenti di prima mano. In questo caso come Mussolini ha deciso di mandare il prefetto a stroncare la mafia? Per quale motivo l'ha fatto? Dopo che facevo un viaggio, ma lo lascio a voi la curiosità di vedere, un viaggio in Sicilia dove un sindaco mafioso, ma lui era il duccio del fascismo e non si faceva schiacciare da un sindaco mafioso. E ho sentito i meridionali lungo l'arco della mia esistenza che si lamentavano, poverini, voi avevate gli Asburgo che erano bravi, tedescofen, dunque organizzati, noi dicevamo i borboni. E poi chi sono sti borboni? Loro dicevano gli spagnoli. Noi sappiamo che i borboni, vero, oggi ci sono come re di Spagna, ma vengono dalla Francia, in realtà sono francesi, babà, vabbè, sono francesi anche in Spagna. Ma come dire che i borboni sono anche, ci dà l'idea, nessuno sa cosa siano perché tutto si parla sull'ignoranza. Come se i borboni è come se un barbone, non lo so, mentre gli Asburgo, non lo so, dei baffoni, ma tutte cose così, ma sono le cose reali che spingono il popolino ad avere le sue cosiddette idee che però hanno forza nei comportamenti pratici. E i borboni ci hanno lasciato nella trascuratezza, senza infrastrutture tipo strade, ferrosie, piuttosto che scuole, piuttosto che ospedali, piuttosto che stazioni di polizia e tutte le cose che servono per la vita cosiddetta civile, per la preistoria e invece voi avete avuto la fortuna degli Asburgo. Cioè come dire, poverini noi che abbiamo avuto i borboni, cattivi e voi, infortunati voi che avete avuto i Asburgo, buoni. Questa cosa l'ho sentito per la maggioranza della mia vita, io 65 anni, ripeto. Però per una minoranza della mia vita da vent'anni a questa parte, dunque ero già super maturo, non so, dicematuro, comodità morale, ma comodità certamente, si è diffuso un canone opposto, quello neoborbonico. Poi ho scoperto, studiando in questa ricerca che tu accennavi, che ho fatto ultimamente, quando è nato? È nato dopo l'uccisione, dopo l'assassino di Falcone Borsellino, ed è nato come io penso, anche se ancora non le provo, uso la parola di Pasolini, io accuso anche se non ho le prove, accuso anche se non ho le prove. Lettera aperta a Corriere della Sera di Pierpaolo Pasolini, uso questo suo stilema per dire, sono sicuro ma non ho ancora le prove, dove fare ricerche, facciamo varie ricerche, in effetti sono mago merino, riesco a fare tutto, che sia stato Dell'Utri a iniziare, anche se non vuole che il suo nome compaia, il Marcello Dell'Utri, il movimento neoborbonico, che è nato esattamente nel 94 o alla fine del 93, dopo l'uccisione di Falcone Borsellino, appena per precedere l'entrata in campo politica dell'imprenditore milanese Silvio Berlusconi. Il movimento neoborbonico ha invertito il canone, narrativo stereografico, lo ha invertito, non è più, poveri noi che abbiamo avuto i Borbone, Barbone, Spagnoli, oh Spagnoli, come quegli Spagnoli che ci ricordiamo da per mai si sposi, se no che ne sappiamo, e invece voi avete avuto gli efficienti a Sburgo. No, si è invertito, adesso il canone stereografico da una ventina di anni in questa parte si è diffuso attraverso i mass media, ha dato un grande colpo di diffusione nel Movimento 5 Stelle, quando è che si è fermato il Movimento 5 Stelle? Nel 2007, 2009? Comunque, ha dato un grande impulso al Movimento dei Borboni con il Movimento 5 Stelle perché cercava voti nel sud. E il canone, adesso lo dico, se no ancora non lo dico, ho detto solo che si è invertito, ma hanno detto come si è invertito. Si è invertito così. I Borboni erano illuminati, sovrani illuminati dell'Europa, avevano uno degli stati, se non il, stato più evoluto dell'Europa, evoluto dell'Europa. Ma poi dei prepotenti che sono di Savoia, attraverso un prepotente, anche se era mazziniano, ripubblicano, non importa. Garibaldi, anche se era eroe dei due mondi, non importa. I prepotenti ci hanno conquistato con la violenza per succhiarci i soldi che noi avevamo, succhiarci le energie economiche, morali, spirituali, quel che l'è, che noi avevamo e loro no. E ce l'hanno rubate, rapinate. Se non ci fosse stata l'Unità d'Italia, se non ci fosse stata Savoia che da Garibaldi, nell'incontro iteano, hanno avuto il ex regno meridionale, cioè il sud Italia, noi saremmo stati una Svizzera dell'Europa, cioè uno stato avanzato dell'Europa. Il canone si è proprio invertito. Quello che noto, e qui finisco con la mia lunga risposta, la tua domanda complessa, come mai ti sei arrivato a porre questo problema, questa grossa problematica del meridione, che la maggior parte della gente, tu magari, vivi la tua vita tranquillo, del meridione non ti prega niente. Perché? Domanda complessa, dunque una risposta complessa, ora qui finisco. La cosa comune ai due canoni, per me falsi l'uno e falso l'altro, l'un canone storiografico, quello che dava la colpa ai Borbone e invidiava Gliasburgo del Nord. E quello di adesso, neoborbonico dell'Utriano, che invece dà la colpa al Nord, esalta ai Borbone, ma il Nord cattivo, allevato, le buone cose illuminate, dei sovrani illuminati ai Borbone. Cosa hanno in comune di profondo? Starei quasi a chiederlo a te, ma non c'è bisogno, non è che devo farti l'interrogazione. Lo dico io, hanno in comune la cosa più importante, la mancanza di responsabilità morale per se stessi. O è colpa del Borbone, o è colpa del Savoia, non è mai colpa nostra, della mafia, della camorra, dell'andrangheta, della corruzione, delle pubbliche amministrazioni, non è mai colpa nostra, mai, è sempre colpa di altri. Questa è la comune, è importante il lato etico. Lo so che per i marxisti non conta niente il lato etico, lo so che conosco profondamente la storia d'Italia dal punto di vista culturale e so come lungo l'arco della mia esistenza è passato questo messaggio marxista, neomarxista sessantantino, per cui l'aspetto morale è sovrastruttura, aria fritta, vapore, conta solo l'economia. Io non sono di questa parte, sono discepoli di Benito Croce. Ero un terrone, ero un terrone Benito Croce. Quindi Franco, per riassumere questa questione, usando un termine ottocentesco, in realtà ancora novecentesco perché Giolitti usava questa espressione inizio del novecento, ma quella che noi possiamo dire è appunto l'insieme delle problematiche del sud che riguardano questa retratezza economica, sociale, potremmo forse dire anche retratezza morale e culturale per certi versi. In realtà hanno dato vita delle ideologie anche di segno opposto che però hanno in comune questa forma di de-responsabilizzazione e di vittimismo probabilmente anche, per cui non è mai colpa dei meridionali in qualche modo. Cioè i meridionali sono stati trovati ostaggio o dei Borboni o del nord Italia. E questo gli priva appunto di quell'assunzione di responsabilità. Questo se ho capito bene ci hai detto... Eh beh sì. Ok. Sì. Allora, dato che siamo passati dal fenomeno, cioè la questione meridionale, alle ideologie, però ti chiederei a questo punto invece quali sono secondo te le reali cause che hanno prodotto questo fenomeno storico di cui stiamo parlando? Allora, qua, la domanda anche qua è complessa e lunga e mentre nella prima però potevo metterci come più sugo, cioè l'impeto, anche psicologico, perché ho parlato all'arco della mia esistenza e ce n'è una sola, come penso tutti, non credono alla rincarnazione. E l'aspetto morale è quello su cui noi ci infiammiamo, sia quando abbiamo i litigi per strada con gli altri automobilisti, sia con i partner, sia nelle discussioni politiche. Invece la seconda domanda, questa che mi stai facendo adesso, è ancora più difficile perché non tanto più difficile nello suo sviluppo, ma più difficile, cioè nel sviluppo della mia mente, ma nella comunicazione in un format come questo, perché stufa, stufa perché la gente non è abituata a ascoltare lo sviluppo storico, abituata a delle formulette, come ho visto nella mia vita. Orbone erano spagnoli sfruttatori, poveri noi. I Savoia erano rapaci, nordisti, sfruttatori, poveri noi. E questa è la formuletta. Invece cosa devo parlare? Devo parlare di che cosa? Dell'alto Medioevo, e cioè di dispersione di Amacchia e di Lopardo, Bizantini, Longobardi. Sì, ma di Longobardi nel meridione, Longobardi. I musulmani anche a un certo punto. E i musulmani in Sicilia. Amacchia e Lopardo era questa la situazione per 500 anni, 450. E poi che cosa? Che arrivano invece dei vichinghi, i normali, nell'undicesimo secolo. Una famiglia, gli altavigli, i dodici duci. Duci, ma non che erano dodici musulini. Eh, duci vuol dire capo. Sì, ma va bene, ma faccio ridere, no? Faccio per ridere, perché sono duci duci, pensa subito che erano dodici musulini, perché l'ignoranza mi impera o mi sbaglio. Questi invece erano all'altaviglia, erano normanni che parlavano francese, e noi siamo tutti contro i francesi, perché condiamo Macron, perché siamo schiavi dei fascisti. E invece erano veniti dalla Scandinavia, dalla Norvegia, dalla Danimarca. Però queste sono le cose stufanti della storia, che stufano, 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 perché c'è la complessità. Uno deve cominciare a pensare che il pensiero è complesso. Porca no, non complesso nel senso di dire paroloni vuoti di aria fritta. Non è questa la complessità. Io ho questi 20 minuti, io ho 18 minuti che ho parlato, ma è stato un solo parolone. Ditemelo. Ha forse detto alto medioevo, ma lo spiego subito. L'alto medioevo sono 500 anni che vanno a caduta l'impero romano occidente fino alla famosa anno 1000. Si chiama così alto medioevo. E poi io voglio parlare che dopo i normanni che venivano dalla Normandia, non dalla Lombardia, sbarco in Lombardia. Ecco il livello dei giornali. I telegiornali nazionali dicono sbarco in Lombardia. Lo sapevi? No. Non sapevi che il Rai 1, il telegiornale 1, quello della Rete 4, quello di Italia 1 e quello di La 7 hanno detto che si festeggiava qualche giorno fa, il 6 giugno, lo sbarco in Lombardia, dove non ci sono mari. Sai che non ci sono mari in Lombardia? Lo sai che non ci sono mari? Lo sai che i canadesi, Oma Beach, piuttosto che gli statunitensi o gli inglesi, non sono sbarcati in Lombardia, ma sono sbarcati in Normandia. È vero che viste con Ia? Non lo sapevi questo. Comunque è una cosa recentissima, oggi siamo al luogo 10, quello del 6, 4 giorni fa. Ora, perché dico questo? Lombardia, Normandia. Dopo che questi Normanni sono venuti, poi c'è stata la questione che si è sposata la figlia di questo, scusa, l'ultima erede di questi Normanni, questa, come si chiamava, aiutami. La mamma di Federico II, intendi Costanza d'Altavilla? Esatto, Costanza. Costanza, questa ultima erede di Svedia, si sposa con un tedesco della casa di Svedia, una normanna, cioè francese, ma d'origine vichinga, che si sposa con un tedesco degli Ausstaufen, noi diciamo Svedia, ma sono Ausstaufen, e il figlio, Federico II, Stupormundi, latino, latino, vichingo, francese, italiano, Nisba, comanda il Regno del Sud, oltre che anche poi il Regno dei Germani, il Sacro Romano Imperatore. Però loro vengono sconfitti da un'altra dinastia, gli Anjou, dei forti, spietati, determinati feudatari francesi. Stai facendo riferimento alla battaglia di Benevento del 1266. Sì, che sconfiggono questi Ausstaufen, Fredi, che era il figlio naturale Federico II. Ma io voglio sottolineare che prima ho parlato di bizantini, di longobardi e di musulmani, arabi, devo dire arabi, musulmani, musulmani è la religione, è importante che siano arabi, questo è l'importante a livello politico. Poi ho parlato di normanni, di lingua francese ma vichinghi. Adesso parlo degli Anjou, che sono i feudatari potenti del Regno di Francia. Ma essi stessi, con una casa aristocratica spagnola della Spagna Mediterranea, che si chiama Aragona, furono sconfitti in Sicilia una parte del loro regno, con i Vespri siciliani. E poi questi aragonesi, spagnoli, spagnoli, hanno via via conquistato il resto del Regno Meridionale e sono entrati a Napoli. E lì, ancora oggi, possiamo vedere i turisti, le tombe degli Aragonesi a Napoli. Ma gli Aragonesi sono spagnoli, che hanno sconfitto i francesi, che avevano sconfitto i tedeschi, che avevano ereditato dai vichinghi, che avevano conquistato longobardi, bizantini e arabi. E questi spagnoli sono l'ultima parola? Ma no, perché questi spagnoli qua si imparentano con matrimoni con la famiglia d'Asburgo, che sono austriaci, e la figlia Giovanna, cosiddetta la pazza, che si sposa appunto un Asburgo, Filippo d'Asburgo, praticamente diventare regina di Napoli e suo figlio Carlo, Carlo di Ganda. Era un belga nato a Ganda, nel Belgio, ma da padre austriaco, da madre spagnola. Era nato a Ganda, diventare di Spagna, diventa duca di Austria, diventa signore del Lussemburgo, dell'Astria e della Carincia e sacro romano imperatore. E anche re di Napoli, re di Napoli, di Sicilia, di Calabria e della Terronia. Sì, lui e suo figlio Filippo, gli Asburgo, cominciano gli Asburgo, una dinastia austriaca, dominare nel regno meridionale. Però poi gli Asburgo, attraverso le guerre di successione, complicate guerre dinastiche del diciottesimo secolo, nel trattato, non mi ricordo se è utile, la quisgrana, aiutami tu, lasciano a una casa d'origine francese, Campo Azzurro, Gilli d'Oro, Gilli d'Oro in Campo Azzurro, le Bourbon, lasciano il regno meridionale. I Bourbon, poi vengono sconfitti attraverso le guerre di Napoleoni, che ci va un generale di Napoleone a comandare per qualche anno, Giochino Murat, ma poi Napoleone viene sconfitto e tornano i Bourbon per la prima metà del diciottesimo secolo, sulle milenarie. Se qualcuno ha seguito, vedi però, non credo che abbiano seguito, perché è noioso, è noioso fare questa cosa qua. Se uno però ha avesso un po' di pazienza, però la virtù della pazienza non posso regalarla io attraverso le onde elettromagnetiche YouTube, ti do la virtù della pazienza, posso darla alla virtù della pazienza, capisci? Se uno avesse avuto la pazienza di cosa? Avere potuto avere, ascoltata, diceva, ah non lo sapevo, ma allora in questo famoso regno meridionale non hanno mai, mai, mai governato gli italiani. Cosa c'è di comune? Che lì mai hanno governato gli italiani. Invece, anche qua, non è che chi mi ascolta, però chi mi ascolta è anche variegata la tipologia di chi non so, qualcuno ve l'ha sentito parlare dei Sforza, dei Visconti, dei Dogi, Dandolo di Venezia, dei Medici di Firenze, qualcuno ve l'ha sentito parlare, dei Malatesta, Marchigiani, Gonzaga, gli ha sentito parlare di questi estensi, di Gonzaga di Mantua, gli estensi di Ferrara, gli ha sentito, sì qualcuno, sì, mica tutti non hanno sentito parlare, no? E questi, cosa in comune questi? Che erano tutti italiani, nativi, di quella terra dove il si suono di cui parlavano del Lugare e del Quinza, Dante Alighieri, tutti italiani che governavano qua e là, nel nord e nel centro, posso usare anche altre parole, governavano qua e là, nel centro e nel nord, ma anche usando altre parole, governavano qua e là, nel nord e nel centro, tutti italiani, quelli del rinascimento, quella dell'elettà comunale, della Lega Lombarda contro l'imperatore Barbarossa. Ecco, una delle cause, ma ho detto solo una, se dico una non è perché non sono in grado di trovarne la seconda o la terza o la quarta, ma devo avere una percezione psicologica, dei miei anche ascoltatori, non posso stufare più di tanto con le cose storiche, ho detto una causa, mai ci sono stati per secoli, precisamente per dieci secoli, sono stati senza nessuna abitudine di autogoverno e di responsabilità di governo. Quindi una causa sarebbe che durante i vari secoli che gettono i radici, addirittura nell'alto medioevo, sostanzialmente gli italiani del sud non sono mai davvero stati messi alla prova con delle responsabilità di governo, ma l'hanno sempre... Stiamo parlando di politica, no? Dunque di governo, è vero? Interessante, ma se qualcuno ti dicesse che anche il nord in realtà, per tratti di questa storia, è stato dominato dagli spagnoli, dai francesi, dagli austriaci, tu cosa risponderesti a questa, diciamo, obiezione? Io faccio l'avvocato del diavolo, eh? L'avvocato del diavolo che come sai, perché tu non sei ignorante di storia, è vero o no? Sai che questi, Ludovic il Moro dei Sforza, piuttosto che... Però Ludovic è stato messo lì come po' vassallo di Carlo V, no? Sì, no, ma ascolta, prima, quando ha imprigionato il suo nipote, il Gian Galeazzo, prima, 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 quando ha chiamato re di Valois, il re di Francia, Carlo VIII di Valois, chi l'ha chiamato? L'ha chiamato Ludovico il Moro. Allora, un italiano, come italiano, appunto, sono questi Gonzaga, questi Estensi, i Savoia e questi altri che ho citato, anche i Dogi, i Dogi di Venezia, non erano dinastici, non ti posso dire una sola famiglia, ho citati dandolo perché sono uno dei più famosi, ma non essendo dinastici, qualcuno ha ragione, non poteva esserci una dinastia, perché non ho una repubblica, ma hai sentito Repubblica di San Marco, Repubblica è il capo di stato elettivo, non è dinastico, è vero o no? Sì, no, che significa Repubblica? Non posso dirti una... Ma erano tutti italiani, però, i Dogi di Venezia, erano tutti italiani, non erano né francesi come gli angioini, né spagnoli come gli lagonesi, né austriaci come gli Asburgo, né tedeschi come gli Eustafone, non so se capissi, no, cioè, tu capissi, vorrei che anche qualcuno dei miei ascoltatori in questo momento capisse. E quando tu mi dici, c'è stata una egemonia spagnola del XVII secolo, quella di cui parla Manzoni apposta, consapevolezmente, perché voleva confrontarla con l'egemonia austriaca, del XIX secolo. Perché l'ambientata del XVII secolo? Perché lì aveva paura della Spagna? No, era una metafora per parlare dell'egemonia austriaca del XIX secolo. Un tempo si sapevano elementari, ma io l'ho imparato questa cosa dal mio maestro Antonio Bertoni quando facevo l'elementare. Manzoni ha parlato dell'egemonia spagnola alla prima età del XVI secolo sul popolo italiano, quello della terra dove si suona, diciamo sì e non IA italiani. Per parlarli come noi, sempre noi, quelli che diciamo sì e non IA, eramo dominati dagli austriaci che dicono IA nella prima età del XIX secolo. La mia risposta, la tua domanda è questo, che noi ci siamo ribellati, che noi avevamo delle potenze, infatti questi spagnoli si interlacciavano, si sposavano, anche perché c'era poi la grande rinascimento culturale, si sposavano con questi estenzi, si sposavano con questi Gonzaga, si interlacciavano gli spagnoli. e per quanto riguarda l'egemonia austriaca, che c'era, grossa egemonia austriaca, in varia forma, con il Regno di Sicilia ci erano alleati nella Santa Alleanza, non aveva un dominio, era un'alleanza, chiamava Santa Alleanza. Con il Papa Pio IX non voleva essere ribellato all'Austria, c'era anti-Austria, però purtroppo il suo predecessore aveva permesso, nei moti del XXI, che ci fosse una guarnigione potente militare austriaca a Ferrara all'interno dello Stato Pontificio, che doveva subire, perché aveva quattro zuavi in croce, che non potevano combattere la guarnigione austriaca. Il Regno Lomardo Veneto era direttamente, il re era l'imperatore d'Austria, mentre il Gran Ducato di Toscana era una casa cadetta, tedesco-austriaca, di Asburgo Lorena. La casa, invece, che comandava in Emilia, dove vengono i miei antenati, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, mio trisnonno, mio quattisnonno, mio quinquisnonno, noi abbiamo anche fino al settisnonno il record genealogico, veniva dal Ducato di Modena e Reggio, in cui c'erano gli Asburgo d'Este. Che significa Asburgo d'Este? Austria cita? Italiano. E poi un'austriaca che era là, seconda moglie di Napoleone Bonaparte, gli era stato dato come contentino, so, di Vedovanza, un Ducato così, come contentino che ti dò un Ducato, un Ducato di Parma e Piacenza, Maria Luigia, di Asburgo. Comunque si può dire che c'era un'esimonia austriaca? Alleati del Regno Meridionale? E poi tutte le altre cose che ho detto e non ripeto? L'unico, l'unico che si opponeva era il Regno di Sardegna. Perché aveva una tradizione, anche qua, ci vuole una pazienza storica, ma questa sarà un'unico storico più che politico, in quanto la politica, se non si basa sulla storia è aria fritta, sono slogan dei venditori di pacottiglia, dei venditori di bufale. Questi di Savoia erano stati i più grandi generali del Sacro Romano Impero Asburgico, il Principe Eugenio. Il Principe Eugenio chi è stato? Chi è stato il Principe Eugenio? È stato il secondo del Luca di, come si chiama, il Luca di Malbero, inglese, ma alleato del Sacro Romano Imperatore Asburgico. Contro chi? Contro il Re Sole. I Savoia avevano una tradizione vera di guerrieri, di guerrieri, di guerrieri. Io questa cosa l'ho imparata e come tutte le cose si imparano da altri, io mica l'ho imparata e conoscendo i Savoia, non ho conosciuto nessuno Savoia e ho studiato, no? Chi mi ha insegnato questa cosa che i Savoia erano guerrieri e avevano un popolo che vedendoli guerrieri e disposti a versare il loro sangue, li seguiva, diversamente dalle altre plebi, degli altri statarelli italiani. L'ho imparata da un terrone che prima citavo, quello che per me è il più grande filosofo italiano, non solo del XX secolo, ma di sempre, e cioè Benedetto Croce, abruzzese d'origine, adottato napoletano Napoli. Chiamavano Don Benedetto, che ha vissuto la maggior parte della vita e morta a Napoli. Io l'ho imparato da lui perché lui ammirava tantissimo i Savoia. Era del regno marionale, però si era sposato una piemontese, tutte le vacanze le faceva nelle Alpi vicino a Torino e soprattutto, come intellettuale, ammirava i Savoia e ha scritto nella sua storia del regno di Napoli, che delle cose che dovresti lasciare come documentazione è, tra tutti i libri che qua sono citati, sono tanti, è secondo me il più importante, la storia del regno di Napoli. Tra le parti cose importantissime che dice, dice questo, era l'unica dinastia guerriera che c'era in Italia, nativa, italiana. Quindi se ho capito bene, Franco, il Nord è riuscito a contrastare il dominio straniero, mentre il Sud si è piegato e lo ha subito. Sì, se uno per mille anni non si può neanche parlare di piegarsi, non so cosa dire, c'è una totale non abitudine all'autogoverno, abitudine al non autogoverno, dall'alto medievo in poi, fino ad oggi. Ma quindi secondo te, o secondo Croce, è soprattutto un motivo di ordine militare, di forza militare il fatto che il Nord sia riuscito a contrastare questo dominio straniero e il Sud, no? No, 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 adesso giusto la tua domanda, perché si potrebbe essere un frantenimento di quello che dicevo io prima. No, io l'ho detto velocemente, ma adesso grazie alla tua domanda espando quello che volevo dire. È quello che ho imparato da Croce, io perché non ho conosciuto i Savoy. Lui invece li ha conosciuti, ha conosciuto Vittorio Emanuele II direttamente, ha conosciuto, ha scritto a Umberto I lettere importanti, perché Umberto I lo prendeva sul serie, è stato fatto senatore del regno a vita da Vittorio Emanuele III, senatore del regno, d'Italia a vita da Vittorio Emanuele III e ha incontrato più volte, dal 44 in poi a Salerno, in quanto ministro del regno, Benedetto Croce, il luogotenente del regno, Umberto II di Savoy. Io invece di Savoy non li ho mai conosciuti, capisci, cara Andrea, non li ho mai conosciuti. Ora l'ho imparato dunque da Benedetto Croce. Chiusa la parentesi, li ho imparati da Benedetto Croce e non da conoscenza diretta, li ho imparato dallo studio e non da andare a prendere la pizza con i Savoy. In pratica lui diceva, anche il fatto che Emanuele Filiberto e l'Eugenio, il principe Eugenio fossero secondi, uno secondo al duca di Marlboro, l'altro secondo al sacro umano imperatore, significa che non erano primi, non era una grande potenza il regno di Sardegna, era una potenza regionale, una potenza minore, minore, regionale, piccola, di secondo grado. Però il popolo, e questo che scrive Benedetto Croce, il popolo, i soggetti, i sudditi, e qua sto espandendo la cosa che ho detto velocemente in tre secondi prima, adesso lo espando, i sudditi di questi re, prima Conti, poi Duchi, poi re di Sardegna, infine re d'Italia, i Savoy, vedendo che i loro re erano disposti a combattere in prima fila e a rischiare la propria vita e il proprio regno per quello che ritenevano essere la loro missione, missione di espansione del potere della famiglia, missione anche di espansione del loro Stato, non solo della famiglia, e poi alla fine anche qualcosa di nazionale, perché Vittorio Emanuele II, il regalantuomo, re d'Italia, amava anche il popolo italiano, non solo quello piemontese. Non per la potenza militare, guardiamo questo fatto principale che prima o me è la risposta migliore alla tua domanda. La cosa militare è un indizio del valore morale e non viceversa. Questo voglio rispondere alla tua domanda. Carlo Alberto era in Sardegna, tra tutti i Savoy che io conosco, il suo nonno Vittorio Emanuele I, il suo zio Carlo Felice, piuttosto che il suo figlio Vittorio Emanuele II, il suo nipote Umberto I, il suo bisnipote Vittorio Emanuele III, il suo bisnipote Umberto II, poi gli altri nel suo più re d'Italia, è il migliore di tutti. Il grande Savoia è Carlo Alberto, a mio giudizio. E Carlo Alberto col suo regnucolo cosa fa? Dichiara guerra all'impero d'Austria. Era perché aveva forte militarmente rispetto all'impero d'Austria? No, tra l'altro l'ha persa. L'ha persa perché erano in lana con il giocatore gigante, schisa. Ma questo fatto che l'abbia fatto e l'abbia fatto mantenendo lui e il suo figlio che lui aveva educato. Chi aveva educato il figlio di Carlo Alberto? E se ci sviluppo un mistero misterioso. L'ha educato il padre, il suo è Carlo Alberto. Il figlio di Carlo Alberto, che si chiamava Vittorio Emanuele, è stato educato dal padre Carlo Alberto, il regalamento uomo. Perché il padre ha fatto lo statuto liberale. E chi l'ha mantenuto? E per questo ebbe il titolo che disse Croce. È il titolo più bello che fu dato a un re. Non di essere potente, sfarcioso, dominatore, re sole del capo. Stavo perdendo la paraccia e non la dico. Ma di essere galantuomo. Non è più bello. Per me è molto più bello essere il re galantuomo che essere il re sole. Non c'entra nella cosa militare, c'entra nella cosa morale. Questo ha motivato i sudditi. Ho risposto alla tua domanda? Sì. Tra l'altro è una risposta molto interessante che riprende un'idea presente nel timeo di Platone. perché in quel testo si dice che quando si comincia a narrare il mito di Atlantide e si parla dell'esercito supervaloroso atteniese che è riuscito a contrastare questa potenza praticamente mondiale che stava per invadere il Mediterraneo, si fa proprio questo collegamento tra il valore militare dell'esercito atteniese e il valore morale del popolo atteniese. Quindi mi sembra che la tua risposta sia molto simile a quello che dice Platone nel timeo. Beh, Platone era più giovane e conosceva bene perché non era un mongolo. Conosceva Pericle. Ora Pericle, noi non abbiamo dei testi scritti da Pericle. Abbiamo la parafrasi di un suo discorso orale fatta da Tucidide nella sua opera storiografica di altissimo livello La guerra del Peloponneso. Nella guerra del Peloponneso che era tra Atene e Sparta. Tucidide, lo storico di questa guerra, mette in bocca un discorso che Pericle fa alle ateniesi. È uno dei supremi testi della cultura occidentale. Il discorso inventato, ma non inventato nel senso di balle, nel senso che non essendosi registratori allora, lui l'aveva sentito, lo ha riprodotto. Gli storici, la maggior parte degli storici con cui io concordo, con fedeltà. E dice Pericle alle ateniesi, noi adesso ci troviamo di fronte a questa grande sfida, la lega delioattica contro la lega peloponnesia, la guerra del Peloponneso. L'Atene è stata sconfitta, ha perduto e Sparta ha distrutto le mura di Atene e ha messo 30 tiranni, cioè 30 henchmen, 30 scagnozzi di società sopra Atene. Atene ha perso, ma prima che perdesse, mentre c'era ancora la guerra. E gli fa un discorso in cui dice, noi adesso ci troviamo di fronte a questa sfida mortale, militare, la guerra contro Sparta. Ma noi perché dobbiamo combattere? Perché noi abbiamo degli ideali, gli ideali della libertà. Noi possiamo esprimere il nostro pensiero. Per esempio ascoltate me, ma potete anche contraddirmi. Voi che mi state ascoltate, potete contraddirmi. A Sparta non si può fare così. Quindi insomma, alla base c'è un problema di natura culturale e morale che poi si riferisce. Morale, morale, perché l'assoluto Albertino è stato conservato, che significa che uno che c'era la libertà di espressione del pensiero, se uno legge lo sottolbertino. C'era veramente, perché c'erano più partiti. Perché Cavur ha fatto il connubio con Rattazzi? Perché c'erano più partiti. Se no, che significato aveva il connubio con Rattazzi? Perché diversamente che in tutti gli altri sei nani, ho detto sette nani, ma a parte questo, negli altri sei non era possibile. Perché i vari arciducchi di Toscana, i vari redri di Sicilia, i vari papi del pontificio, dopo che hanno visto l'Austria vincere la crisi del 48, hanno ritirato gli statuti. Chi non l'ha ritirato? Chi non è ritirato lo statuto liberale? L'unico è stato Vittorio Manuel II. L'unico. Che mai significa liberale? Quella parola liberale, anche oggi, prima era sconosciuta. Io per decenni e decenni ero solo l'unico che dicevo ai miei studenti liberale, liberale. Ma che significa liberale? Noi stiamo solo democratico, democrazia, democratico, liberale. Poi via via, negli ultimi anni, ha cominciato a comparire questa parola nei telegiornali, nei politici, nei politici, nei telegiornali. Liberale. Che compaia rispetto ai decenni passati della mia vita, lo osservo come storico e uomo che vive prima di morire. Osservo questo cambiamento lessicale di vocabolario. Però anche mi accorgo, come uomo, se di nuovo conoscitore di quello posso capire con la mia zucca, che non si sa cosa significa liberale. Adesso qua colgo l'occasione che non è che servirà più di tanto, se da pochissimo. Liberale, per esempio, significa contraddire il governo, senza essere né incarcerato, né ucciso, né esiliato, né licenziato, né calunniato, né distrutto moralmente. Se uno non può criticare il governo, che sia il governo D'Azelio, sia il governo Cavour, c'è chi ha il potere della polizia, il governo e chi ha il potere della polizia, cioè della forza fisica e anche dell'esercito. Senza essere perseguitato, quello è uno stato libero. Servirà a queste mie spiegazioni cos'è liberalismo? Ho usato paroloni. No, è molto chiara. No, ma non servirà a nulla, perché queste cose profonde, che nelle parole non servono. Franco, volevo dire anche a chi ci sta ascoltando che poi nel documento che metterò a disposizione di chi fosse interessato, tu hai anche raccolto diverse testimonianze di meridionali. Allora, di che cosa? Io prima ho citato Massimo D'Azelio e capisco che già se qualche meridionale mi sentisse, diceva, ma perché Massimo D'Azelio è il Piemontese? Certo che i Piemontesi dicono vado a letto con un lebroso. Ecco, io però in questo documento non ho messo, l'ho detto a voce adesso, ma non l'ho messo nel mio documento. Nel mio documento ho voluto usare questa, diciamo, strategia di conversazione, di comunicazione. Ho messo Leonardo Shasta, siciliano. Silvio Spaventa, abruzzese, adottivo napoletano. Benedetto Croce, abruzzese, adottivo napoletano. Giovanni Falcone, siciliano. Francesco De Santis, avellinese irpino. Paolo Borsellino, siciliano. Luigi Settembrini, napoletano. Questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e i 7. Non sono solo nomi, ma io metto in questo documento le loro scritte che parlano del meridione a cui loro appartenevano, soprattutto in vari periodi capitati. Circa 100 anni di sviluppo da Luigi Settembrini a Falcone ci sono, no, più di 100 anni, ci sono 140 anni, 140 anni di sviluppo storico. Da quando Settembrini ha avuto l'ergastro dal regno di Sicilia, a Falcone ucciso a Capaci. 140 anni di storico. Ma lì ci sono tutte esami, analisi, accuse di meridionali, detto tra noi eroi meridionali, ho detto Settembrini prima quando è morta e poi Argastro. Falcone, qualcuno forse lo sa, Borsellino forse qualcuno lo sa, De Santis forse qualcuno, ma ormai non più. Più grande storico è l'autore italiana, ministro della pubblica istruzione, ma prima carcerato nel regno di Sicilia. Sul meridione? Ma perché sul meridione? Perché se uno ama il proprio popolo, e qua arrivo a dire, secondo me, una cosa molto importante. Io, perché ho citato Iberito Croce, il mio maestro di filosofia, non a livello, diciamo, proprio teoretico, o almeno non completamente teoretico. Quello è Tommaso d'Aquino e Aristotele, il mio maestro di filosofia. Ma lui è l'esempio del filosofo, che non potevano essere né il medievale Tommaso d'Aquino né l'antico Aristotele, perché non abbiamo il sapore delle loro vite, mentre invece io ho il sapore della vita di Iberito Croce. E posso identificarmi io uomo del ventesimo secolo con un altro uomo del ventesimo secolo. Ora, Iberito Croce è appunto meridionale. Io ho conosciuto, il mio più grande amico che ho avuto nella mia giovinezza, Antonio Canistra, era di, eh, ancora vivo, di Catanzaro, il mio più grande amico della giovinezza. Ora ho avuto vari aiuti grossi da persone meridionali mentre facevo il militare. Mia madre è nata a Napoli, nata a Napoli non perché fosse napoletana, ma mio nonno, il Vise, che era un ufficiale di Marina, ha vissuto a Napoli in quanto ufficiale di Marina che ha un grande porto. Dunque anche quello è importante per la sua vita. Poi mia madre è nata là. Io ho attualmente degli amici, uno dalla Basilicata, si chiama Nunzio Veglia, uno dalla Reggio Calabria, si chiama Carlo Caratozzo, lo mandiamo, dico per dare il sapore che io, non sto parlando contro i meridionali, contro i terroni. Ma contro l'ideologia terronistica o neoborbonica o dell'utriana? Sì. Ma lo dice Gesù. Gesù è una persona che io stimo, Gesù di Nazareth, voglio dire. E Gesù di Nazareth diceva bisogna condannare il peccato, non il peccatore. Noi dobbiamo amare il peccatore perché noi tutti siamo peccatori, dunque dobbiamo amare noi stessi e dobbiamo amare gli altri, che possiamo essere invasi da idee malvagie. Io, Franco Mani, che ti sto parlando, andremo adesso. Posso essere, ho stato un po' la mia vita e posso essere ancora nel futuro invaso da idee malvagie? Ti dico quello che penso con sincerità. Sì. Io coincido con le mie idee malvagie? Ti rispondo con sincerità. No. Ecco perché questa cosa qua non è contro. Sino perché io ogni anno mi ricordo e cerco del mio piccolo su Facebook di ricordare Falcone e Borsellini. Perché? Perché mi distingo le due cose. Questa è una precisazione importante perché altrimenti molte persone avrebbero potuto fraintendere questa ricerca molto interessante che hai fatto, ma non contro i meridionali, al massimo contro le ideologie. E poi vi dico che io faccio parte dell'associazione mazziniana italiana. Recentemente vi ho fatto un convegno un mese fa, si chiama Fratelli d'Italia, non mica siamo meluniani, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Europa. Perché Fratelli d'Italia non aveva inventato i fascisti o i neofascisti, aveva inventato il discepolo giovinetto, 21 anni, Goffredo Mameli, che nelle mani di Mazzini aveva giurato fedeltà alla giovanità fondata da Giuseppe Mazzini. Goffredo Mameli è morto difendendo la Repubblica Romana comandata, comandata da Giuseppe Mazzini. Questo ragazzo è morto obbedendo a Giuseppe Mazzini. Aveva dedicato questa canzone chiamata a canto degli italiani, Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. A chi? A dei ragazzini di strada venduti dai loro genitori sciagurati a degli sfruttatori londinesi. A Londra, londinese significa Londra, perché Mazzini ha vissuto la grande maggior parte della sua vita a Londra. Allora cosa ha fatto Mazzini? Vedeva questi ragazzini in strada italiani sfruttati e ha pensato a dire, almeno per il futuro cerco di dargli un po' di futuro. Come posso dare un po' di futuro? Dandogli l'istruzione. Allora ha fondato una scuola in cui insegnava a leggere, a scrivere, a far di conto, ma anche delle materie letterari, tipo la letteratura di Alfieri, di Foscolo, di Manzoni, ma anche l'astronomia. Lui andava la domenica, proprio lui personalmente, a insegnare l'astronomia a questi ragazzini, dicendo che l'astronomia è una scienza che ha del religioso. Io capisco cosa significhi questo, perché l'astronomia è la scienza disinteressata per eccellenza, che non ha aspetti pratici. Goffredo Mameli, questo Fratelli d'Italia, l'ha dedicata a questi ragazzini che abitavano a Londra, quindi nella scuola di Mazzini. Nessuno lo sa. Io sono sicuro che tu, e adesso chi mi ascolta, lo impara per la prima volta, è vero o no? Ma anch'io l'ho imparato recentemente, perché sono un fan di Mazzini. Allora, in questo convegno, Fratelli d'Italia, che se li siamo a 1849, non al 2004 e alla Meloni, ma a 1849, Fratelli d'Europa, perché Mazzini ha fondato la giovane Italia nel 1831. Oh, che noia le date. Ha fondato la giovane Europa nel 1834, tre anni dopo. Che significa che ha fondato la giovane Italia, che portato la giovane Europa, che diversamente dai cosiddetti sovranisti, lui non pensava che noi italiani siamo superiori, ai francesi che sono checche, agli inglesi che sono usurai commerciali, ai tedeschi che sono teste quadre, ma fossimo repubblica e sorelle, popoli che devono, per l'umanità, ciascuno dare il suo assieme. Questo è l'ideale di Mazzini. Fratelli d'Italia, fratelli d'Europa. Perché sto citando questo convegno? Perché io faccio parte della società mazziniana. Io. Questa cosa di meridionale, io lo vedo come figura dell'Italia nel suo complesso. Se io amo il meridione, come De Santis, come Bersellino, come Falcone, come Croce, devo dire ai miei amici, ai miei compagni, ai miei familiari, ai miei parenti, ai miei amici vicini di strada, ai miei compagni di merenda, devo dire. Io voglio bene a me, voglio bene a voi, siamo meridionali, leviamoci questi vizi, leviamoci questi ostacoli, leviamo queste brutte abitudini, miglioriamoci. Via i vizi e viva le virtù, ho fatto i vizi, viva le virtù, per noi, per il nostro bene. Come hanno fatto questi qua, tutte le testimonianze scritte, lunghe e stupefacenti, perché voi non le conoscete, perché non le trovate su internet, per fare una lunga ricerca, sfruttando tutta la mia intelligenza e la mia cultura, per poter trovare queste cose che sono nascoste, di questi meridionali, contro i difetti del meridione. Se li leggete, è lo stesso che per l'Italia. Se io amo l'Italia, come Mazzini ama l'Italia. Mazzini, mi ha chiamato in Inghilterra. The beating heart of Italy. Il cuore pulsante dell'Italia. The beating heart of Italy. Il cuore pulsante dell'Italia. Lui amava l'Italia più di tutti. L'apostolo dell'amore d'Italia più di tutti. Più di Garibaldi, più di Cavour, più di Re Vittorio. Ma negli scritti di Mazzini, a cominciare il suo copolavoro, che si chiama Dei doveri dell'uomo, è il suo copolavoro, è pieno di accuse ai padri italiani, alle madri italiane, come tirano su i figli italiani. Sono abbastanza chiaro? Le padri italiani, le madri italiane, come tirano su, come educano i figli italiani. Pieni di ambizione, di macchiavellismo, di conformismo, di clientelismo, di corruzione. Così non andremo mai a nessuna parte, ragazzi. Quindi, Franco, la tua indagine critica, volta a mettere in luce i difetti del meridione italiano, non è spinta da un odio, una idiosincrasia, ma al contrario da un amore che, attraverso la critica, vorrebbe migliorare la condizione di questo meridione. Prova a pensare a questo. Tu mi conosci da qualche anno. Anche le mie battaglie per la scuola italiana, scuola tailandese, no. Scuola costaricana, no. Scuola antartica, no. Quella dei pinguini, no. E la scuola italiana, lo sai che io combatto per la scuola italiana. Per amore della scuola o per odio per la scuola? Sembra una domanda retorica, comunque la esplici. L'amore della scuola italiana, per migliorare, a migliorare e fare più felici gli studenti e gli insegnanti, non è amore. Se no, che cazzo è l'amore? Spiegamelo tu se no, che cazzo è l'amore? Io definisco l'amore così. Cercare il bene delle persone che ami. In questo caso sono gli insegnanti gli studenti nella scuola. Per quello che conosci, combatto per il bene degli insegnanti, degli studenti della scuola italiana? Per quello che conosci. Ecco l'amore. Ma l'amore passa attraverso la critica dei difetti, o no? Io condivido pienamente quello che dici, è che spesso si sente dire il contrario, che chi parla amare del sud in realtà non vuole bene al sud. In realtà tu ci stai giustamente proponendo la prospettiva opposta. Sì, come mazziniano, se parlo amare dei difetti italiani, per amore dell'Italia, come faceva mazziniano? Come insegnante, se parlo dei difetti della scuola, per amore della scuola. Sto usando paroloni? Sono chiaro in quello che dico? Sì, chiaro. Chiarissimo. Ti vorrei fare un'ultima domanda prima di chiudere questa interessante intervista, Franco. Se tu dovessi dare dei consigli o tratteggiare delle vie, tra virgolette, di uscita, magari non per risolvere totalmente questi problemi, ma quantomeno per ridurli o ridimensionarli, secondo te su cosa si dovrebbe puntare? Il testo di Dianosi è un testo molto lungo. Io adesso, in questa intervista con te, ho parlato di aspetti morali, di aspetti storici, delle dinastie dei secoli passati, di alcuni intellettuali, della distinzione tra come faceva Gesù quando dice ad Ultera nel quarto capitolo dell'Evangelio di Giovanni. Io non ti condanno, non ti voglio lapidare come vogliono questi moralisti che ti vogliono uccidere con le pietre sulla testa. No, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però gli dice, va e non peccare più. Non gli dice come al sessantottino, sesso, droga, rocker. Non era sessantottino Gesù. Aveva i capelli lunghi forse, ma non era sessantottino. Ora, perché cito questa cosa del Gesù, eccetera? Dico anche che Veneto Croce mi ha fatto insegnare tante cose. Una delle cose che mi ha insegnato è che i meridionali hanno una cosa molto positiva in questi secoli che abbiamo espresso. Non stiamo parlando del paleolitico o del neolitico, stiamo parlando dall'alto medioevo in poi. Eh, poi sono tanti secoli comunque, no? Sono 1500 anni. Beh, diceva il Croce. Un altro aspetto positivo, lo aveva notato Benedetto Croce nella sua già citata storia del Regno di Napoli. E cioè che la netta maggioranza dei filosofi, quei filosofi significa pensatori italiani e meridionali, non è del centro, non è del nord. Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Bernardino Telesio, Giovanni Battista Vico aggiungeremo. Giovanni Battista Vico, Francesco De Sanctis, Gaetano Filangeri, Vincenzo Cuoco, Pietro Giannone. E noi, io, aggiungiamo Giovanni Gentile e soprattutto Benedetto Croce stesso. Perciò le vie. Siete orgogliosi di questa tradizione culturale. Non deprimetela, non lasciatela, non fatela morire. Le cose, come bene dice questi, soprattutto Settembrini, scrive appunto questo pamphlet che mostra le terribili cose della vita quotidiana nel sud in cui tutti sfruttano gli altri, tutti comandano, sono come schiavi rispetto al superiore e schiavizzano l'inferiore. Non c'è nessun rispetto della persona, c'è solo adulare e essere schiavi di chi ha più potere e martoriare, mortificare chi ha meno potere di te. Questo lo dice un meridionale, eccetera. Sono parole fortissime fatte da meridionale, apposta, maestro meridionale, perché io penso che lo spirito, il valore morale, il valore intellettuale non dipenda di essere meridionali o setenzionali, di essere francesi. Lo spirito è nato in Grecia, poniamo, con la filosofia, ma poi è andato a Roma con gli stoici, dove è andato? In Francia, a Sorbona, con i grandi dottori medievali e poi dove è andato? Con il rinascimento italiano, nel centro Italia, poi dove è andato? Forse in Francia, con Cartesio e Malebranche, forse in Germania, con Leibniz e Kant e Hegel, forse in Inghilterra, con Hobbes, Hume, Locke e Stuart Mill. Lo spirito non è legato alle appartenenze materiali. Io non sono materialista, io non sono marxista, e non sono sessantottine. Lo spirito è forte, anche se la carne è debole. Detto questo, direi, una via è quella della cultura, l'altra via però è quella della ferrea repressione militare, come aveva fatto Re Vittorio I II, come ha fatto Mussolini stroncando la mafia attraverso il perfetto, con pieni poteri, Mori, come stavano cercando di fare Falcone e Borsellini. Se non c'è uno stroncamento militare, militare significa, se non c'è altra via, sparando e uccidendo i boss mafiosi e anche i sottocapi dei boss mafiosi e anche i sotto sottocapi dei boss mafiosi, potrei aggiungere anche i sotto sotto sottocapi dei boss mafiosi e ucciderli se non c'è altra via. Se invece c'è la via di poterli metterli fino alla fine alla loro vita in prigione, è meglio, perché sono seguaci del Marchese Cesare Beccarito. Ho nato due cose di terapia. Quindi prognosi non mi attento, prognosi no, perché la mia filosofia dice che non si può sapere il futuro, ma diagnosi è quella la cosa più importante del mio contributo che potete trovare come testi, eccetera. La terapia che mi chiede qua Andrea Modesto, l'ho detta per quello che posso pensare. Poi mica sarà solo questo, andare a emigrare, andare al nord, andare in Inghilterra, internet, varie maniere di capire che ci sono altri modelli di vita morale, altri modelli di vita economica, altri modelli di amministrazione locale. C'è un varie cose, però lui mi ha chiesto, mi sono rifiutato e ho detto che la cultura è lo stroncamento con la forza dello Stato, con la violenza fisica, di cui come Max Weber ci ricorda è monopolista o dovrebbe essere monopolista lo Stato. Purtroppo in quelle regioni, essendoci lo Stacro Corona, l'Andrangheta, la Camorra e la Mafia, lo Stato non è monopolista della forza fisica, purtroppo, perché c'è la lupare. E quindi non è neanche sovrano in quelle terre, diciamo. Eh sì, c'è una sovranità contesa. Ok, interessante. Quindi da una parte, diciamo, l'arma della cultura... E dall'altra parte l'arma dei caratteri. Stavo dicendo l'arma della cultura che implica anche il coraggio e lo sforzo di prendere atto della realtà invece di continuare a negarla o di finire in ideologie vittimiche. Io direi a questi miei colleghi di filosofia o di storia o di letteratura, insomma, gli insegnanti, poniamo, o giornalisti, quel che lei, italiani però del meridione, direi leggetevi attenti queste testimonianze di questi sei o sette grandi intellettuali e politici, sia intellettuali sia politici, meridionali, leggetevi attentamente le loro diagnosi, le loro descrizioni, perché lì non potrete dire voi siete porci, maledetti, vampiri, nordisti, capitalisti, sfruttatori dei sabaudi, eccetera. Non potete, perché sono siciliani, sono napoletani, sono abruzzesi, sono irpini. Franco, grazie mille per aver condiviso questo tuo percorso di ricerca con noi, insomma. È stato molto interessante e soprattutto, lasciamelo dire, finalmente è bello sentire qualcuno affrontare questa tematica, diciamo anche con il rigore del senso storico e della razionalità, perché troppo spesso, a mio avviso perlomeno, si sentono slogan, frasi fatte e spesso le ideologie purtroppo prendono sopravvento e quindi invece che aiutarci davvero a comprendere il fenomeno, vanno a contribuire alla mistificazione del fenomeno in questione. Sì, alla mistificazione. Io ho dato anche delle piste di ricerca recenti, quella della Fondazione del Meditino Borbonico, all'alba della uccisione assassino di Falcone, assassino di Borsellini, fine dell'inchiesta Manipulite e discesa in campo di Berlusconi. Contestualmente a questi fatti decisivi per la nostra storia d'Italia è stato fondato il movimento Neon Borbonico. Va bene, va bene. Franco, ti ringrazio molto, magari ci saranno altre occasioni per parlare e affrontare altri temi assieme. Speriamo, ciao!